Io come lei sa sono rimasto 31 anni al di fuori dell'Italia, l'Italia l'ho sognata, l'ho amata tanto, tanto amato gli italiani, ho sempre voluto rendermi utile, mettermi a disposizione, mettere a disposizione le mie relazioni internazionali, le mie lingue, quello che posso fare concretamente per questo territorio in Europa. Ma il Parlamento europeo è molto importante, purtroppo è sentito molto da lontano dagli italiani perché forse i nostri nero parlamentari non sono stati all'altezza dell'impegno che hanno preso. Io quello che voglio dire è che sto soprattutto pensando all'identità italiana in Europa, promozione del territorio, turismo, piccole e medie imprese, aiuto a piccole e medie imprese, artigianato, agricoltura, pesca, tutto questo sono cose che possono essere aiutate dal Parlamento europeo se ci sono progetti concreti, se i parlamentari seguono i progetti, fanno la lobby giusta e portano avanti. Ci sono tanti soldi messi a disposizione dall'Unione Europea per questi progetti e per gli italiani. Sì, conoscevo bene la vostra Liguria, non dimentichiamo anche che mia madre è genovese, è doria, dunque conoscevo abbastanza bene, però ci sono tanti posti, diciamo l'intraterra che conoscevo meno e oggi quello che è bello è soprattutto scoprire tutte queste meraviglie che abbiamo intorno e che non sappiamo sfruttare. Dunque anche lì si può essere un aiuto concreto per Genova e per la Liguria.